Il territorio di Ardea continua a essere disseminato di discariche abusive e troppo spesso i rifiuti stessi vengono anche incendiati, provocando odori neusabondi che invadono l'intero comune. In via Pavia e in via Bergamo, ad esempio, ci sono montagne di rifiuti accatastati. In qualsiasi strada noi andiamo ad Ardea, troviamo sempre delle mini discariche o maxi discariche. Passando per via Bergamo c'è l'agostazione che è piena di rifiuti di tutti i tipi e quello dovrebbe essere pulito giornalmente, invece si accumulano questi rifiuti. La situazione peggiore senza dubbio è di fronte all'ingresso per l'area archeologica di Castrum Enui. Come potete vedere alle mie spalle, i gnoti hanno abbandonato veramente di tutto e gli ingombranti sono stati scaricati e poi anche incendiati. Con l'apertura dell'isola ecologica situata tra via Pavia e via Garda, la situazione legata all'abbandono dei rifiuti potrebbe decisamente migliorare. Quello che vedete qui alla mia destra dovrebbe essere la prima e unica dopo un'eternità isola ecologica finalmente sul territorio di Ardea, tanto attesa dai cittadini proprio alla luce di tutto quello che abbiamo buttato nelle strade, nei fossi. Io credo che l'amministrazione dovrebbe dare seguito all'apertura, all'urgente di questa isola ecologica, insieme a tanti altri cantieri che sono partiti nella passata amministrazione, basta citare la piazza di Tor San Lorenzo, il centro Anziani e altre cose che erano in cantiere, che sono al momento tutte ferme, non è dato sapere alla cittadinanza i reali motivi di questo stop. Nella speranza di ottenere qualche risposta circa l'apertura dell'isola ecologica, è attesa per il 12 ottobre la convocazione della seduta della Commissione Controllo e Garanzia, durante la quale si affronterà il tema della gestione dei rifiuti. Il 12 abbiamo in programma questa seduta della Commissione che servirà ad iniziare ad esaminare il contratto per l'appalto della gestione della raccolta dei rifiuti, che comprende anche vari altri aspetti legati a questa tematica e quindi probabilmente quella sarà la sede in cui esamineremo anche il perché di questa chiusura prolungata di un'opera che noi attendiamo veramente da sempre.